Mi chiamo Gino Perri, ho 55 anni e vengo da Milano. Sono venuto qua perché è venuto lo zio di mia moglie, mi ha raccontato bene, mi sono fidato e sono venuto qua per fare i denti, che non ne ero messo molto bene. Avevo problemi di paradontite, un po' di tutto. Mi sono trovato bene con i dottori, con gli assistenti, un po' con tutti. Mi sono trovato un po' a casa, che parlando italiano tutti quanti, sono stato bene. Mi hanno tolto tutti i denti, mi hanno messo i perni, ho sofferto un po' i giorni dopo, però dopo, bene o male, sono stato bene. Dopo sono tornato dopo sei mesi, mi hanno messo quelli definitivi e proprio un'altra cosa, un'altra provvisione definitivi. Adesso che ho finito mi trovo benissimo. Si pensa che ho qualcosa di doloroso, ma non è proprio niente doloroso di non avere paura. Dopo una settimana, dieci giorni che ero a Milano, un po' il parlare, che è diverso però, tutto normale, anche nel mangiare, tutto a posto. Tutto bene a casa, tutto bene al lavoro, tutto bene. È la vita normale. Adesso bene o male, video di più, parlo di più, vado a mangiare fuori di più, perché prima non andavo. Tante volte mi invitavo, non andavo per il problema dei denti. Adesso posso andare tranquillamente. Si, posso andare a mangiare fuori, posso ridere, posso fare quello che voglio con i denti. E ma anche il dottore dice, sorridi grande, ma io non riesco a sorridere grande.